Adesso cambiamo argomento, parliamo di politica, perché oggi è uscito un sondaggio che fotografa la situazione politica pre-elettorale a Fanò a otto mesi dalle amministrative del 2014. Un sondaggio della società Sigma Consulting che sta facendo già discutere. Per il campione di persone intervistate alla giunta di centro-destra va un 6 stiracchiato per il 49% dei fanesi, il giudizio sulla giunta in carica è sufficiente o discreto, per il 30% invece è insufficiente. Il centro-sinistra alla guida della città è visto positivamente dalla maggioranza relativa dei fanesi, ma il gioco delle alleanze rende ancora incerto il risultato delle prossime amministrative. Tra i politici il più noto è Giancarlo Danna, lista civica di centro-destra ed è infatti il più conosciuto, mentre Massimo Seri della lista civica di centro-sinistra è quello più adeguato, sempre secondo questo sondaggio, al ruolo dei sindaco. Anche Maria Antonia Cucuzzi e Mirko Carloni sono ai vertici della notorietà, più staccati del vecchio di scelta civica e Ada Romiccioli del Movimento 5 Stelle. Indietro Samuele Mascarindi, sinistra unita, Stefano Marcheggiani del PD, Emanuele Aisotti della Tua Fano. Il sondaggio di Sigma Consulting fotografa quindi lo scenario pre-elettorale sul comune di Fano. Tutti i dettagli di questo sondaggio sono pubblicati e li potete consultare sul nostro sito occhiolanotizia.it. Però abbiamo anche un altro cartello che vi voglio far vedere, eccolo, in questo istante, nel quale la domanda posta alle persone intervistate era la seguente. Considerata la situazione fanese, secondo lei, chi può amministrare meglio la città nel prossimo mandato? Il 29% degli intervistati ha risposto il centro-sinistra, il 23% il centro-destra, il 22% il Movimento 5 Stelle, il 20% le liste civiche indipendenti dei partiti, altro il 6%. Ok.